L'ospedale di Gela è abbandonato, chiudiamolo. Provocazione del Partito Democratico. Al pronto soccorso solo 4 medici in servizio su 15 in organico. Gli altri reparti non garantiscono le prestazioni. A causa di carenze croniche che si trascinano da tempo, scrivere Gruppo PD, l'ospedale non riesce più a rispondere alle esigenze della città e del suo comprensorio, con reparti al limite del collasso organizzativo e pazienti che sistematicamente vengono trasferiti in strutture private. Ridateci il lavoro. A lanciare un appello è l'ex guardia venatoria Marco Antonio Maniscalco. Sono 25 i lavoratori nel Nisseno che dal 2014, a seguito della privatizzazione del servizio, hanno perso il lavoro. Sorpreso a rubare nell'auto di un carabiniere, si tratta di un minorenne di Gela denunciato alla magistratura e a Ragusa la polizia arresta un nigeriano accusato di aver rubato il telefonino ad una sua connazionale. Riscoperto un altro eroe di guerra gelese, si tratta di Giuseppe Valenti che perso la vita in Spagna durante la Seconda Guerra Mondiale e fu insignito della medaglia d'oro. Il suo nome è stato dimenticato finché le ricerche dello storico Nuccio Mule non lo hanno riportato alla luce. Ultima trasferta con pari per il Gela, la formazione biancazzurra non va oltre l'1-1 con il Gerbison di Gallon, la rete gelese e domenica prossima si chiude con la Cireale nel derby più atteso. Si giocherà al Dinoliotta di Licata. Chiudiamo l'ospedale di Gela. Lo propone provocatoriamente il gruppo consigliare del PD gelese in una nota con la quale denuncia la situazione di estrema precarietà in cui verso oramai danni il nosocomio cittadino che dopo la riforma ospedaliera regionale serve un bacino di 150.000 abitanti assieme ai comuni di Niscemi, Butera, Riesi e Mazzarino. In una nota inviata al commissario dell'ASP di Caltanissetta, i consiglieri PD ricordano che il pronto soccorso, primo reparto d'emergenza del Nisseno con oltre 46.000 prestazioni annue, opera in turni massacranti con soli 4 medici in servizio su 15 in organico. La chirurgia lavora con appena 3 medici in servizio, la pianta organica di anestesia e rianimazione è ridotta al 50% e si interviene solo nei casi urgenti. L'unità di malattie infettive è chiusa da un anno, la nefrologia e la dialisi sono senza posti letto, la cardiologia non garantisce più prestazioni ambulatoriali, liste di attesa lunghe di mesi e tante altre insufficienze. A causa di carenze croniche che si trascinano da tempo, scrive il gruppo PD, l'ospedale non riesce più a rispondere alle esigenze della città e del suo comprensorio, con reparti alla limite del collasso organizzativo e pazienti che sistematicamente vengono trasferiti, sempre che si trovino ambulanze ed infermieri, in strutture private per buona pace di chi continua a fare denaro a causa di una sanità pubblica volutamente disastrata. Recenti ed inutili riunioni con le più alte rappresentanze politiche della città e della regione, denunciano i democratici, hanno solo prodotto chiacchiere ed indifferenza. E allora, tenuto conto che questa situazione mette a repentaglio la stessa vita dei pazienti, se ne chiede l'immediata chiusura, così rendendo realizzata finalmente la volontà di chi vuole lasciare di Gela e del suo comprensorio, senza alcuna possibilità di dare soccorso a chi chiede assistenza sanitaria. Chiudere il pronto soccorso? Trovo la provocazione del PD di pessimo gusto. La salute va tutelata in tutti i modi e con essa strutture e sanitari. Sono indignata, lo dice in una nota il consigliere comunale del megafono Sara Bonura. Nessuno dice si dovrebbe permettere di usare la parola chiusura, considerato il momento tragico che sta vivendo la nostra città. Bonura si pone degli interrogativi. Che fine hanno fatto i progetti del patto per il sud? Come mai ancora non sono state esploitate le gare? I lavori del portorifugio quando inizieranno? E quelli del museo archeologico? Troppo facile dire chiudiamo. Bisogna lottare. E se le riunioni non sono servite a nulla, continua, vuol dire che non abbiamo gridato abbastanza. Uniamo le forze e facciamo sentire la nostra voce. A cosa servono, onorevoli senatori, se non fanno rispettare le nostre stanze? Anche loro sono cittadini gelesi, oppure lo hanno dimenticato? Chiediamo un intervento immediato da parte del nuovo commissario dell'ASP. Non è più il tempo di attendere. Vogliamo fatti reali e concreti che facciano percepire a tutti i cittadini la volontà di potenziare i servizi sanitari del territorio gelese. E quanto dice il presidente della quinta commissione Ambiente e Sanità, Virginia Farruggia? Chiederemo al commissario un incontro al più presto, così da rappresentarle il lungo lavoro svolto dalla commissione, a volte con spirito di collaborazione e a volte con spirito critico, a seconda delle situazioni, ma sempre con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. A poco servirà il recente intervento relativo al centro unico di prenotazione, se poi gli utenti dovranno attendere tempi lunghissimi per ricevere un servizio dovuto. 25 guardie venatorie rimaste senza lavoro dal 2014, da quando il servizio è stato privatizzato. Che cosa è successo? Io innanzitutto parlo per quanto riguarda le 25 guardie venatorie della provincia regionale di Caltanissetta che lavoravamo fino al 2014. Da 2014 in poi praticamente noi siamo rimasti senza lavoro e la provincia regionale di Caltanissetta è rimasta senza controllo venatorio e ambientale. Io parlo a conto dei miei colleghi perché non potendo lavorare uno non può portare soldi a casa e noi sappiamo benissimo che non potendo portare soldi a casa, non avendo uno stipendio le tasse non le possiamo pagare. E poi parlo pure per quanto riguarda il territorio di Caltanissetta che è un territorio praticamente devastato. Se noi giriamo campagna e campagna vediamo che ci sono molti montagni di rifiuti speciali, tossici, pericolosi che noi queste cose le controllavamo giornalmente, quotidianamente. Una figura importante quindi anche in vista di alcune politiche che stanno per essere avviate nel nostro territorio. Sì, allora io so che praticamente c'è una nuova finanziaria dove queste finanziarie stanno facendo per il ripopolamento del coniglio. Sì, giusto è quello che sta facendo la politica per i cacciatori perché i cacciatori pagano le tasse regionali, le governative, l'ATC, l'ambito territoriale di caccia, le assicurazioni. Però è giusto anche che ci sia un controllo perché non ha senso tutto questo. Se uno fa un ripopolamento dei conigli il bacconaggio è elevato in tutta la Sicilia e si sa benissimo che tutte le varie province hanno la polizia provinciale ma l'unica provincia che non ha la polizia provinciale e addirittura non ha neanche le guardie venatorie ambientaliste è quella di Caltanissetta. Quindi non ha senso fare questo ripopolamento se non c'è un dettagliato controllo. Qual è dunque l'appello che vuole lanciare a nome delle 25 guardie venatorie rimaste senza lavoro? Io dico a questi onorevoli per favore, con cuore in mano, di ridatici il lavoro, di ridatici la dignità e soprattutto anche al territorio regionale di Caltanissetta che è una bellissima provincia. Un 17enne giulese è stato denunciato dai carabinieri per tentato furto, ricettazione e per avere fornito false generalità. Vittima dalla vicenda è un carabiniere libero dal servizio che si era allontanato pochi minuti dalla sua auto parcheggiata in strada, il tempo strettamente necessario per prendere degli oggetti da caricare. Il militare, al ritorno verso il proprio veicolo, si è accorto che seduto all'interno c'era qualcuno intento a provvistare. Il giovane è stato prontamente bloccato ed accompagnato in caserma. Il ragazzo che in un primo momento ha anche fornito false generalità si spostava a bordo di un'autovettura che dai primi controlli effettuati dai militari è risultata a provento di un furto denunciato qualche giorno prima a Gela. La squadra mobile di Ragusa ha arrestato un nigeriano di 31 anni per rapina. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, una donna nigeriana lo scorso 23 marzo stava passeggiando per il centro storico Ibleo quando è stata avvicinata da un connazionale che dopo averle fatto dei complimenti le ha proposto di consumare un rapporto sessuale. La donna ha rifiutato ma l'uomo ha continuato a seguirla rivolgendo le frasi volgari fino a quando la vittima ha cercato di allontanare l'uomo che la molestava chiedendo aiuto. All'ennesimo e fermo rifiuto il nigeriano ha strattonato la donna colpendola al viso con degli schiaffi per impossessarsi dal telefono cellulare torcendole il polso e minacciando che se avesse gridato ancora l'avrebbe uccisa. Durante la collutazione il rapinatore ha lasciato alcuni inequivocabili segni che hanno permesso alla polizia di identificarlo con certezza. Dalle successive indagini la vittima lo ha riconosciuto attraverso delle foto mostratele dagli investigatori. Fondamentali le dichiarazioni di alcuni testimoni anch'essi di origine nigeriana che hanno collaborato con gli inquirenti. La procura della Repubblica di Ragusa, esaminate le fonti di prova raccolte dagli investigatori della squadra mobile, ha richiesto l'applicazione di una idonea misura cautelare. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta e ieri pomeriggio gli uomini della Polizia di Stato hanno scovato il nigeriano, che non ha una dimora abituale a Ragusa, arrestandolo. Gela riscopre un altro figlio illustre, eroe della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di Giuseppe Valenti che perse la vita in Spagna l'11 marzo 1937 mentre si lanciava all'assalto delle forze nemiche. Un gesto che gli valse la medaglia d'oro e negli anni 50 all'intitolazione di una via del villaggio Aldisio. Poi il suo nome cadde nell'oblio fino a quando le ricerche dello storico Nuccio Muleno lo hanno riportato alla luce. In relazione a una serie di ricerche sulla Seconda Guerra Mondiale, qualche anno fa ho ritrovato sul libro dello scrittore Francesco Savà, dottore Francesco Savà, un nominativo che mi sembrava strano perché non si sapeva nulla ed era Giuseppe Valenti e ho fatto le comunicazioni di rito alle istituzioni, ma non è successo niente. Ultimamente però nell'ambliare questa mia ricerca ho scoperto pure che a Gela casualmente aveva un parente questo Giuseppe Valenti ed è l'attuale luogotenente Niccolò Bulone, comandante della stazione dei Carabinieri di Gela, che cortesemente ha fatto in modo di farmi avere la documentazione originale sia per quanto riguarda il diploma dell'esercito spagnolo con la medaglia d'oro, dove si attesta che aveva avuto una medaglia di loro e altre documentazioni riferibili alla vita di questo suo parente. Nei prossimi mesi sarà inoltre organizzata una cerimonia commemorativa a cura dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Gela, alla quale prenderanno parte i discendenti di Valenti. Il luogotenente maresciallo Resciniti in pensione, che ha preso a cuore la situazione e quindi come associazione d'arma di Carabinieri in pensione, vorrebbe fare una manifestazione a ulteriore ricordo di questo milite gelese. Purtroppo nel caso di questo Valenti è successo che l'amministrazione comunale degli anni Cinquanta lo conosceva, tant'è che gli dedicò una via al villaggio il diesel. Poi per più di 60 anni è stato completamente dimenticato, tant'è che fino a qualche mese fa il suo nome non compariva nella stele di Piazza Martire della Libertà che si riferisce alle medaglie d'oro. Donati due canestri da basket al quartiere Settefarine, la piazzetta della chiesa San Sebastiano potrà essere utilizzata dai ragazzi della zona e da tutti gli appassionati di sport per giocare a pallacanestro. Due cestini infatti sono stati installati nell'area adiacente alla parrocchia. L'iniziativa è stata promossa dalla sezione locale del Lions Club. Questo è un progetto che si inquadra in un più ampio progetto a livello regionale, 100 piazze nello sport. I club per tutta la Sicilia hanno pensato di installare queste strutture sportive che va al di là della semplice donazione ma vuole essere un modo per dimostrare come i Lions vogliono stare accanto alla gente facendo delle cose spesso talvolta anche utili. Continuiamo su questo percorso perché il nostro motto è servire, servire e dimostrare con l'azione quello che è il nostro intento, stare vicino ai bisognosi. Questo è il primo passo che noi quest'anno abbiamo affrontato questa tematica del We Serve che è lo sport come vicolo dei valori e abbiamo già cominciato a installare questi due canestri oggi, altri due saranno installati all'Elettore Romagnoli e altri due ancora sono in via di destinazione. Questo proprio per rendere incisiva la nostra azione sul territorio. Questo quartiere sapete benissimo che è carente di strutture sportive. I nostri giovani non hanno un punto dove andare a sviluppare le proprie vocalità sportive. Stiamo cercando di ottenere quanto più possibile, ma ottenere quello che ci spetta di diritto, avere un oratorio dove i nostri giovani, i nostri ragazzi possono crescere veramente sani nello sport e nell'amore verso gli altri. Il valore è grande. Grazie a Lions oggi abbiamo questi doni che penso debbano convogliare risorse e forze che altrimenti potrebbero convogliere in altre vie che non sono sicuramente vie buone. Ringrazio tutti quelli che danno un'attenzione, osservano il territorio e stiamo aspettando tante altre situazioni per il bene loro, per il bene loro, per il bene delle famiglie, che si possano sentire accolti, amati, perché nelle nostre parrocchie, come dice Papa Francesco, oltre ad essere campi ospedali di campo, veramente debbano essere quelle case che aprono il cuore, non solo la porta della chiesa, ma soprattutto la porta intero del cuore, l'accoglienza, la carità, l'amore. Il Leggera chiude l'ultima trasferta di campionato pareggiando per 1-1 sul campo del Gelbison, un pareggio tutto sommato giusto, entrambe le squadre hanno provato a vincerla la partita, ma il risultato non si è schiodato dal pari. Le migliorazioni si sono registrate nel primo tempo, i campani sono partiti subito all'attacco, prima una conclusione è finita alta, poi è stato bravo il portiere biancazzurro a sfoderare un ottimo intervento. Il Gelbison era andato anche in gol, ma l'arbitro giustamente ha annullato per fallo sull'estremo difensore gelese. I ragazzi di Nicola della Nuova, dopo la sfuriata iniziale dei campani, hanno cominciato a rendersi pericolosi in diverse circostanze. In due occasioni, però, gli avanti gelesi non hanno inquadrato la porta avversaria. Il Gela ha pure protestato per un dubbio fallo di rigore in aria ai danni di Cosenza. Lo stesso Cosenza, pochi minuti dopo, ha avuto sul piede la possibilità di segnare, ma il tiro è finito alto. Ci ha provato anche Gallon, pochi istanti dopo. Nel secondo tempo, pronti via, il Gela passa in vantaggio. Il gol lo realizza lo stesso Gallon. L'euforia dura solo sei minuti. Al diciannovesimo, infatti, il Gelbison pareggia grazie a Cammarota. Il team biancazzurro prova nuovamente a ripassare in vantaggio, ma trova il portiere campano pronto a sventare ogni minaccia. Finisce uno a uno. E domenica prossima, sul neutro dedicata, ultimo atto del campionato. Il Gela riceverà la visita della Cireale nel derby più atteso. Le due squadre in classifica sono divise da un punto, Gela 51 a Cireale 50.